Sì, è un poverone, è un poverone che ti ha invito per la felicità del lato. Ma poverone, ma tu che cazzo non sai tu? Ora ci facciamo sapere che io le dico a tu, eh? Brava Gianni. Basta, corra, torno a mia mamma. Tieni ragione. Ascolti, se ti piace, vieni qua, mettetegli pure un altro. Che dici? Va bene, ma se non mi piace una torna e me la rifai. Certamente. No, non cazzo. Giovanni, ma ti importa qualcosa di me. Ora che abbiamo fatto l'amore, tu ci tieni un po' a me. Non rispondo. No, sì, certo che ci tengo. Ti vorrei che sia. Quindi non mi odi? Certo che non ti odio. Bene, allora. Buona giornata. A dopo. Sono nell'occhio del ciclone anche loro. Vabbè, dottoressa Fires, non le devo spiegare io come funziona il nostro mestiere o no? No. 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 No.